Divinità di Genshin Impact, principi celesti, veniteci incontro. Va, vai. Ecco, cos'era questa considerazione? Sto tremando. Ci siamo, dai, doppio, lo vogliamo doppio. 75, 76, 77, 78, eccolo qua, è arrivato. Poi siamo nell'ufficio giustamente ad attenderlo con Wrozenzli, quindi meglio di così non poteva essere. Ian Fey, perché c'è anche lei, vediamo, 2, ci sei Barbara, pt3, così. Oh, che cos'è, saio, pt4, che cosa sta succedendo? Così, e stiamo, e così stiamo. Dai, dai, vediamo, si va. Vamos. Vamos, intanto luce donata, sì, meno male, perché anche qui non si sa mai. Vediamo. Ok, 75, 76, 77, 78. Come prima? 78 uguale a prima, identico. P di 78. Oh, di solito mi vanno l'oltre l'80. Dai, abbiamo vinto. C1. Dai, cave. Credo in te, dove sei? Lo staglitter per fare 30 e siamo a posto poi. Quindi quando vuoi possiamo andare. Let's go. Oddio, Marietto l'ha detto. Oddio. Oddio. È morta. Eva, ci sei? Sì. Oddio, viva. Viva. Oddio. Oddio, si sente male. C'è qualcuno in casa con te, Eva? Mia sorella, di là che ho cacciato prima, se no faceva casino. Oddio. È il gatto che dorme. Ciao, gatto. Oddio. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Lasci due, non ho volte. Ok, è questa. Sì. Allagato. Ha laggato, quindi teoricamente è qualcos'altro. Oh. Mi devo dire. Infatti io per lì quando ho visto il lag ho detto non è. Però era l'unico che speravo di vedere. Quindi devo dire in tutta onestà che questo per me è un GG. Lo dicevo prima. Vabbè, abbiamo sempre dato abbastanza la tensione. È il momento, Davide. 3, 2, 1. Con chi vuoi passare il tramonto al mare? Con me. Con una Ceres. Ah, sì, con te. A Rimini. Con una Ceres? No, mi piace tantissimo. Eh, via. Prendiamo una Ipa. Buone la Ipa. Ma è molto fruttata. Buone le Ipa. Andiamo alla Tana. Andiamo alla Tana, dai. Andiamo a prenderci un... Un'ace. E tutto ciò, Davide, può uscirci in questo momento? All'altro io... Che, 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 che casino. Nooo. Fermo, fermo, fermo. Buono. Sì, sì, non vado oltre. Te la metto anche in mezzo così TikTok. Il senso di non ventilare, perché ti vedevo già partire. È arrivato Albi. È vero, è arrivato Albi. È arrivato Alberto. No, io mi auguro che esca qua. 88. 88. Oh! Allora, 78. Babara! 79. No, come? 80. 80. No, parti. 81. 80. 82. 81. 83. 86. 84. 87. 85. 88, come avevo detto io. 88. L'ho detto prima di iniziare la multi. 88. 88. Titi 88. Posso dirlo bastardo? Sì, si può dire, si può dire. È perché è un bastardo. Perfetto. Non mi avresti censurato. 48. 88. Sì, sì, ha laggato. Ce l'abbiamo. Ecco il lag. Ce l'abbiamo. Dov'è? 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 Ce l'abbiamo. 39. Subito. 39. 39. Ce l'abbiamo. L'abbiamo preso. Early Pity 39. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Oh. Sì, 39. Queste e queste 40. Pity 40. Tondo. Congratulazione ad Arlux. 71. Aiuso. Aiuso è prima del dovuto e non ha laggato. Non ha laggato. Quindi sicuramente non è un 5 stelle che non ha. Quindi non è uno di quelli che gli mancavano. O è uno che ha già o è proprio lui. Ciao, chizune. Vediamo. Questo è 62. 63. 64. 65. 66. Buono. 67. 68. Sì. Pity 68. 50 50 vinto. Caso C1. Vediamo. Via. Non ha laggato. Quindi è un personaggio che già hai. Può essere lui. Ma può non essere lui. Lo scopriremo. Questo era 75. 76. 77. Bello. Bello. Bellissimo. 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 78. Va bene. Il TIG. Il TIG nazionale. Pity 34. 4. Allora. 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 Le cose sono due. o è lui o lo troviamo lo stesso perché abbiamo abbastanza pull per ritornare al soft quindi quindi anche se non dovesse essere è perché ne avevamo 90 e passa all'inizio quindi con anche gli style gritter lo prendiamo oggi quindi vediamo però se è perché questa pull qua è pt 25 25 26 c1 27 28 29 gnam gnam non è ma gg 35 è fatta 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 pt 26 fatta caso ha portato a casa fatto easy easy dopo aver fatto pt 25 daya a pt 26 no pt 29 daya a pt 26 caso con 50 pull 2 5 stelle nuove andiamo a pt 30 no raga no raga no no raga no 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 non è vero no non è vero non è vero ma è maui dimmi benji dimmi che c'è così svengo mi dispiace mi fa piacere lo so che lui ha il pt al 30 tra l'altro era frame laggino quindi sicuramente non dovrebbe essere kiching dovrebbe essere qualcos'altro e nemmeno daya raga siamo a pt 21 oddio 22 no mi sono emozionata se mi da tignari penso che svengo sul serio gli piace tignari 23 24 mona vatashi va mona nuovo personaggio perché gli manca anche questo dai facciamo va bene doppio 5 stelle doppio casua doppio casua e gliana questo è doppio madonna sì sì ci sono anche barbara e young fai dentro a 75 5 76 77 78 che carino che è ma non vedete quanto è il patato con il suo codino eccolo alla posta sotto quanto è carino chiudo gli occhi madonna che ansia va bene troppo responsabilità poi mi è andato a misare mi è andato a misare mi sono andato anche io di dire che cazzo mi chiedo di aprile e c'è l'ansia aprile c'è bu l'ho sentito dal suono tranquilli è vero ma non si può più fare sta roba la gente parla casa è nuova non si può più fare no no sei scelto 5 stelle oddio no è vero tanti auguri tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te ora tiro la multisupervalente 60 poi è 60 ecco ecco alternativa c'è qualcosa che ti vorresti lo so che vogliamo lui solo lui però a me mancano degli e cicci ancora ok oddio tanti auguri no scherzo andiamo andiamo non farmi dire parolacce ok 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 donna no basta guardia devi fare contare i titi però 1 2 no 1 1 1 non posso avere un altro non posso volare 5 stelle ecco ok ed è oddio è la quinta arma che trovo la città è la città la città è la città bellissimo bellissimo quando è permanente non nemmeno ora come l'altra volta o come l'altra volta anche l'altra volta è uscita ma che fa la città ti fa il buff del reit è molto buono tira una singola furina io così andiamo andiamo no ci prego ho aspettato tre anni tre anni oddio oddio è lui vediamo vai let's go 5 stelle vediamo allora arco questo è 75 76 77 78 79 ti manca non ce l'ha non ce l'ha sta parlando è nuova fortissima andiamo a prenderci questo caso eccoci qua 5 stelle 75 76 77 78 eccolo qua pt78 che è potremmo richiamarlo il pt casua perché questo penso sia il terzo casua uscito a pt78 io non dimentico io non dimentico mai via let's go è andata è andata vediamo 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 75 76 77 78 79 niente raga non ci si fa multi del 5 stelle sul permanente lui vuole lo skyward harp gli è stata chiamata la skyward pride secondo me pg o arma arma eccola qua la gravestone ti ho detto era arma lo sentivo anch'io arma non ci si fa